sono ritrovati allora allora io sono fatto quest'altro ubriaco e quell'altro che sta riprendendo è ancora più fatto però stavamo pensando una cosa ok stavamo guardando un pochino il livello dei commenti e commenti in generale di quello che è la community e le risposte che vengono date e secondo me siamo una community di fottuti geni ovvero secondo me l'utenza nostra media sono solo geni secondo te cioè secondo te dico cazzate no no assolutamente ecco esatto quindi se uno ha un qualcosa di buono un cazzone una dote un'abilità quello che perché non metta la frutta giusto cazzo sì cazzo sì quindi perché non non far collimare le cose a questo punto e dire ok apriamo un format a cui parteciperanno tutti perché questa parteciperanno tutti perché fondamentalmente è a gara io ce l'ho più lungo no quindi perché non aprire l'angolo la community risponde ovvero avete domande qualsiasi chimica fisica meccanica matematica salcazzo qualsiasi cosa che per voi è ostica voi ci scrivete ok la mail con la domanda la community io mi ci gioco le palle vi risponde sicuramente ma non stronzate curiosità avere cioè se avete tipo avete una curiosità non so spiegarmi meglio cioè tipo da me a mano tipo l'ultimo video che cazzo saltava fuori da quei fumi di marra che hai fatto ecco giusto ecco perché l'idea mi è venuta mi è venuta da quello perché mi stavo chiedendo esattamente cosa cazzo fosse porca puttana ha vinto il commento del giorno infatti è stato pinnato in alto perché ha dato la spiegazione scientifica perfetta quindi qualsiasi cazzo di domanda che avete la community io sono scusami non è che ti devi dare il pazzo sto riprendendo il video forza di quella puttana si toglie quelle palle ok cosa cosa stavo dicendo stai dicendo di commenti che vengono pinnati quelli con le spiegazioni migliori ha giusto hai rotto il cazzo in maniera composta e silenziosa comunque stavo dicendo quindi voi ci scrivete una mail ok con le vostre domande ma che siano serie non puttanate perché non devono essere puttanate io sono sicuro che la community vi risponde questo magari lo facciamo inizio settimana e verso fine settimana vediamo le risposte non lo so una roba del genere quindi a che mail dovete scrivere perché io non la pezzo di merda staff.killermaru.com corretto penso di sì che bello essere proprietario delle industrie se non contare un cazzo di niente non sapere anche le mail la professionalità innanzitutto però comunque va beh il sun to ci siamo quindi scrivete le vostre domande quelle che vi inquietano tipo in australia perché l'acqua gira contrario rispetto a noi o tipo perché lo stronza quella forma qualsiasi stronzata vi venga in mente che dici me lo sono sempre chiesto ma non mi sono mai azzardato a chiedere per non vergognarmi ecco a noi non frega un cazzo ti risponderemo sono sicuro che la community avrà una risposta bene quindi anche per questa videoconferenza conferenza è tutto assolutamente esatto ciao merdine ma bella come butta no dai aspetta aspetta famiglie famiglie ma ce la fa quest'uomo ma cosa stai facendo aha aha ok e aha foston ciao comment